Buongiorno ai nostri ospiti, sono Alberto Grossi e questo è Mindset, il programma che va in onda dall'ospedale Maria Luigia di Monticelli Termo in provincia di Parma. E' tornata a trovarci, la saluto con grande piacere, la dottoressa Paola Bizzi, psichiatra e psicoterapeuta, che lavora presso l'ospedale. Oggi parliamo di un tema molto d'attualità e grave e preoccupante al tempo stesso. Parliamo sempre di dipendenze, ma parliamo di dipendenze da gioco d'azzardo. Faccio una brevissima premessa dicendo che il gioco d'azzardo viene identificato come tutti quei giochi in cui si giocano ovviamente delle somme di denaro e in cui non c'è nessuna abilità da parte del giocatore, ma è semplicemente la fortuna quella che determina appunto la vincita oppure la perdita di soldi. I più diffusi oggi sono appunto Videolottery, Slot Machine o anche, detti anche Videopoker, i grattevinci, poi i tradizionali, l'otto, superene l'otto, questi sono i giochi un po' più storici, fino anche ai Win for Life e a ovviamente tutto il mondo online, tutte le scommesse che uno può fare in rete. La cifra è che gli italiani si sono giocati, io qui ho il dato del 2013, quindi di qualche anno fa, comunque impressionante, di 84,7 miliardi di euro, probabilmente oggi è una cifra destinata purtroppo a salire. Ecco, dottoressa, il gioco non è sempre pericoloso in sé, perché ci sono persone anche che giocano in modo responsabile, tuttavia c'è chi sviluppa dei comportamenti compulsivi e quindi arrivano a dipendenza. Buongiorno a tutti, sì, questo è un nuovo problema che si presenta alla nostra osservazione, nel senso che sempre più frequentemente accedono anche alla nostra struttura pazienti che presentano problematiche legate al gioco. Arrivano alla nostra struttura generalmente in una condizione di depressione, ansia, talvolta hanno tentato il suicidio, proprio perché si sono create delle condizioni estremamente gravi di indebitamento, il più delle volte, che hanno condotto poi a gravi conseguenze anche nell'ambito familiare. Noi ci occupiamo di questi pazienti perché comunque il gioco d'azzardo patologico è entrato nell'ultimo manuale diagnostico che noi utilizziamo tra le malattie da dipendenza, tra i disturbi da dipendenza. Insieme, viene classificato insieme agli altri disturbi da dipendenza come l'alcolismo, di cui abbiamo parlato, l'abuso di sostanze, proprio perché c'è una base neurofisiobiologica che accomuna questo tipo di disturbi. Quindi noi abbiamo un approccio nei confronti del disturbo da gioco analogo a quello che abbiamo nell'altro tipo di disturbi da dipendenza. Ecco, ma io le domando, ma il giocatore patologico, cosiddetto, ha consapevolezza di avere un problema oppure no? Ecco, questa è sempre una questione controversa, nel senso che, soprattutto all'inizio, proprio perché il giocatore patologico ha false credenze, ha un pensiero, se vogliamo dire, magico. Quindi si lega a tutta una serie di convinzioni, false convinzioni, che lo inducono a pensare che lui è capace di gestire la sua fortuna. E quindi peggiora. Quindi di controllare la macchina. Quindi di controllare la macchina, controllare la fortuna, controllare il Gartai Vinci. E quindi questo è proprio, questo atteggiamento e questo pensiero è alla base del suo disturbo. E soprattutto si accorge, se si accorge, di avere un problema quando ormai la situazione economica è compromessa o parzialmente compromessa. Alla nostra osservazione arrivano pazienti che sono già consapevoli perché hanno attraversato momenti molto critici. Nel percorso, invece, antecedente, tutti sono convinti di essere in grado di gestire, insomma, la situazione. Eccoci rientrati in compagnia della dottoressa Paola Bizzi e parlavamo appunto di gioco d'azzardo, di giocatori d'azzardo e di patologia. Parlava appunto di indebitamento, di situazioni, anche quindi familiari e sociali, che diventano insostenibili. Ci può fare un esempio? Noi abbiamo avuto ricoverata una signora nel recente passato, una signora di Milano, arrivata da noi appunto, inviataci da colleghi, in quanto era così, reduce da un tentativo di suicidio, quindi una condizione di gravissimo malessere, a seguito della perdita di un appartamento a Milano. Questa signora aveva perso l'appartamento giocando con i gratta e vinci. Nel momento in cui ho cercato di confrontarla un po' con questa situazione, lei nonostante tutto minimizzava il problema e diceva che in fondo l'appartamento era suo e quindi per lei non era così grave la situazione. Ecco, quindi da un punto di vista anche appunto sociale, familiare, le chiedo da un lato se appunto i familiari possono eventualmente dare, accorgersi e dare, come dire, una prima segnalazione e dall'altro c'è un discorso di prevenzione, prevenzione primaria, come voi la chiamate. Io credo che come tutti i disturbi da dipendenza, anche quello da gioco ha una grave ricaduta sulla famiglia, nello specifico proprio perché incide anche su quello che è l'andamento della quotidianità familiare nella gestione della vita e di quello che può essere il bilancio familiare. Questo ovviamente crea grosse conflittualità all'interno dei nuclei familiari con una serie di tristi situazioni, anche recentemente un nuovo caso. Insomma abbiamo avuto una situazione recente molto grave in cui un padre di famiglia si era indebitato a tal punto da dover allontanare il nucleo familiare da lui perché la situazione era diventata troppo critica. Per quanto riguarda la famiglia, credo che i segnali ci possano essere proprio perché mano a mano che si va avanti si disattendono a quegli obblighi familiari che sono della quotidianità. Quindi credo che un'attenzione vada presa. Non a caso esistono nei certe sportelli specifici per questo tipo di problemi dove appunto il soggetto viene accolto insieme a un membro della famiglia. Per quanto riguarda... E qui però si parla già di prevenzione secondaria o anche terziaria. Per quanto riguarda invece la prevenzione primaria credo che non siamo noi, psichiatri, addetti ai lavori che possiamo farla a quanto un cambiamento forse della politica economica e che diventa molto sociale e di costume. Anche perché appunto da un certo punto di vista su un fronte abbiamo la necessità di circoscrivere questo problema. ma sull'altro fronte ogni giorno anche sulla tv nazionale compare la possibilità di facili guadagni insomma quindi diventa molto difficile. Sì, sì, come i giochi che vediamo appunto nei più seguiti programmi televisivi. Peraltro c'è anche qualche buona notizia che negli ultimi anni alcuni comuni italiani si sono dichiarati slot free e quindi stanno cercando o di limitare al massimo o anche di fare sì che gli esercenti bar rimuovano o comunque limitino in un qualche modo la diffusione. Ecco, ma quali sono i giochi più giocati e quelli che anche danno più dipendenza? Allora noi facciamo una stima e valutiamo che i giochi più giocati sono quelli che danno un immediato guadagno. Di conseguenza noi vediamo come ci sia un'ampia diffusione delle slot, le videolotteri, i gratta e vinci e sono i tre principali responsabili di danni. In seconda istanza vediamo invece quelle che possono essere i casino, il gioco delle carte e alla fine le lotterie quelle più immediate, non quelle ovviamente a lungo termine, anche perché appunto quello che desidera il giocatore è avere una risposta immediata e questo determina un meccanismo psicofisiologico compulsivo che è quello che porta avanti il gioco. Bene dottoressa, il tema è assolutamente molto interessante ed è molto d'attualità. Io invito i nostri ascoltatori a scrivere alla posta elettronica radiochiocciolaospedalemarieluigia.it per porre appunto sia delle domande ma anche delle questioni o sollevare anche dei casi. Noi risponderemo in che modo? Lo sottoponendo e invito la dottoressa se vorrà essere nuovamente nostra ospite proprio anche a rispondere magari in maniera anonima naturalmente ma ad alcune di queste questioni. Volentieri. Grazie. E arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie.